Musica molto diversa, infatti è quella dei Planet Funk, gruppo napoletano di Elettro Rock. A Ponsuoli un concerto per presentare il nuovo album Cecilia Donadio. Sembrava difficile raccogliere l'eredità di Dan Black, invece i Planet Funk, la band che scala le classifiche pop europee e registra e produce negli studi napoletani di Via Positico, ha tirato fuori un'altra voce sorprendente, il lussemburghese Alex Ullman. Il singolo A Mother's Sunrise, tratto dall'ultimo album dei Planet, The Great Shake, è già il tormentone dell'estate. Vederlo ballare dal vivo nello spettacolare spazio del Nabila a Ponsuoli è stata una tentazione troppo forte per esistere. Così per una sera il gruppo, specialista in Elettro Rock, ha offerto dal vivo agli oltre 3.500 ospiti del locale Plegreo i brani del nuovo album e quelli più ascoltati della loro discografia. Da Lemonade a Inside of the People a Who Save a Chase the Sun. Stavolta nessuno ha sentito la mancanza del DJ.